Musica Ospedale di Polla da settembre ambulatorio oncologico, l'ultimo atto del dottore Aristide Tortora. Teggiano, aviopista e il sindaco Rocco Cimino parla del servizio trasmesso dalla RAI. Vacanza del sorriso, ieri ultimo giorno, le impressioni degli ospiti del Vallo di Diano. Padula, è morto l'attore cinematografico Omar Sharif, il Vallo di Diano lo ricorda per la sua parte nel film C'era una volta con Location La Certosa. Padula, al centro musica store, ieri sera grande spettacolo con il batterista Andrea Fontana. Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Uno News. Apriamo con la sanità, ieri ultimo giorno da direttore dell'ospedale Luigi Curto di Polla per il dottor Aristide Tortora che da lunedì assumerà la direzione dell'ospedale di Scafati. Ma fino all'ultimo momento ha portato avanti il suo compito a tutela della sanità del territorio. Lo dimostra il suo ultimo atto che ha visto l'attivazione dell'ambulatorio oncologico presso l'unità operativa di medicina generale. Vediamo. Il dottor Aristide Tortora, prima di lasciare il suo ruolo alla guida della direzione sanitaria dell'ospedale di Polla, ha raggiunto un ultimo importante risultato per il presidio con l'attivazione dell'ambulatorio di oncologia. Da lunedì, nuovo direttore sanitario per l'ospedale Luigi Curto, con l'arrivo del dottor Luigi Mandia, già responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona e aiuto direzione sanitaria dell'ospedale di Nocera, mentre il dottor Tortora lascia per andare alla direzione sanitaria dell'ospedale di Scafati. Ieri, quindi, è stato l'ultimo giorno per il dottore Tortora che si è concluso con una giornata intensa caratterizzata dalla visita presso il presidio ospedaliero del procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro, il dottor Vittorio Russo, e conseguente pranzo di commiato a cui si è giunta nel pomeriggio la comunicazione del riconoscimento per il presidio ospedaliero pollese del nuovo servizio ambulatoriale su cui il direttore sanitario Rissi de Tortora aveva puntato già dallo scorso mese di maggio e per il quale ne ha chiesto con forza l'attivazione in tempi celeri. Ieri, dalla direzione generale dell'ASL di Salerno, è giunto il nulla ossa per l'inizio del servizio, a partire dal 1 settembre 2015, dell'ambulatorio di oncologia presso l'unità operativa di medicina generale del presidio ospedaliero pollese, con l'affidamento dell'incarico alla dottoressa Anna Libroia. Il servizio ambulatoriale sarà attivo due giovedì al mese, il secondo e il quarto di ogni mese del pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30, con la possibilità di effettuare visite oncologiche e visite oncologiche di controllo. Un risultato importante per un territorio che da troppo tempo è colpito da diversi casi di patologie tumorali e per il quale è stato da più parti richiesto di attivare un servizio per effettuare controlli oncologici preventivi. Un progetto su cui il dottor Tortore aveva puntato e per il quale è stato necessario ottenere diversi nulla ossa prima di raggiungere il risultato e portare, anche sul territorio valdianese, il servizio indispensabile alla tutela della salute e alla prevenzione e cura delle malattie oncologiche. Lo scorso 27 maggio il direttore sanitario dell'ospedale di Polla presentò richiesta per l'attivazione dell'ambulatorio con l'ok da parte della direzione generale e ieri la comunicazione ufficiale con la disposizione trasmessa anche al centro unico di prenotazioni di Vallo della Lucania. Un ultimo importante obiettivo raggiunto dal direttore sanitario dottore Tortora che da lunedì sarà a Scafati a dimostrazione dell'impegno con cui ha portato avanti il suo compito presso l'ospedale di Polla e che ha manifestato anche attraverso il suo profilo Facebook salutando e ringraziando quanti hanno collaborato con lui in questi 15 mesi di attività presso il presidio ospedaliero del Vallo di Diano. E ora apriamo la pagina della cronaca. Un incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Silla di Sassano nei pressi del ristorante La Campagnola adiacente alla villa comunale per fortuna senza gravi conseguenze per le persone. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che una Fiat Panda Bianca proveniente dalla strada che sovrasse il fiume della villa comunale sia andata ad impattare con una Fiat Punto proveniente da Silla in direzione località San Rocco che sembra abbia perso con l'autista il controllo della sua autovettura. Fortunatamente l'impatto non è stato violentissimo sul posto immediato l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica. Sembra da alcune indiscrezioni che a causare la perdita di controllo dell'autovettura sia stata una traccia di olio che sembra sia stata lasciata da un camion che si era emesso sulla strada provinciale proseguendo in direzione Sassano Centro. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per chiarire anche eventuali responsabilità. E andiamo avanti sempre con la cronaca. Nel corso della nottata i militari della compagnia di Sala Consilina hanno tratto in arresto a Caggiano un 32enne di origine marocchina ed una 36enne di origine rumena colti in fragranza di reato per furto aggravato in concorso. I due dopo aver rotto una finestra di un'abitazione a Caggiano si sono introdotti all'interno della casa impossessandosi di televisori e pc per un valore di circa 5.000 euro. In quel momento una pattuglia dei carabinieri passando ha notato una macchina sospetta parcheggiata all'esterno dell'abitazione. i militari in quel momento erano in servizio proprio per controllare il territorio con le attività finalizzate proprio alla prevenzione di furti. Vistisi sorpresi, la coppia di ladri ha tentato la fuga ma sono stati bloccati dagli operanti che hanno così recuperato l'intera re furtiva restituendola a legittimo proprietario. i due arrestati, entrambi residenti a Sant'Angelo Le Fratte, sono stati ristretti in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Lago Negro. E andiamo avanti, ci spostiamo a Teggiano. Il servizio realizzato dalla RAI per parlare dell'Aviopista non è piaciuto al sindaco Rocco Cimino che ai nostri microfoni non ha usato mezze parole per far comprendere come il territorio meriti maggiore rispetto. C'è stata tanta strumentalizzazione peraltro io devo ringraziare questa emittente per l'ottimo articolo e il servizio che è uscito qualche serata fa e che ha fatto molto piacere e credo soprattutto a tutta la comunità di Teggiano ma anche dell'intero Vallo di Liano. Avrei preferito che a fianco ci fosse stata anche la politica del territorio che avesse sponsorizzato questa idea e comunque difeso quello che è sembrato ai più un vero e proprio attacco al territorio perché interviste così fatte non sono moralmente da giornalismo di informazione ma sembra più un'opera di sciacallaggio mediatico che serve semplicemente a conquistare un poco più di attenzione ma che non portano la verità su un territorio che non può essere visto e vissuto attraverso le immagini che il giornalista in questione ha mandato nel suo servizio ma come rimarcavo io in un'altra emittente come giustamente faceva notare anche il servizio che voi avete mandato e molto di più. Per il resto sono solo chiacchiere artatamente costruite noi stigmatizziamo molto questo comportamento ma speriamo, come dicevo anche in un'altra occasione che questa emittente e questa trasmissione magari possa essere al nostro fianco per arginare le trivelle che stanno aggredendo questo territorio che invece proclama da tanti anni natura e cultura. Nuova allocazione per il mercato settimanale a Sassano che si svolge ogni lunedì la giunta comunale infatti tra le prime attività poste in essere all'atto dell'insediamento ha ufficialmente approvato lo spostamento per il momento solo provvisorio e in via sperimentale del mercato settimanale dell'Uredì che si svolgerà sulla nuova sede individuata in piazza Umberto I e lungo corso Umberto I nel centro storico nel rispetto di quello che era il programma di valorizzazione e promozione proprio del centro storico inoltre è stata anche approvata la delibera che prevede la riscossione quotidiana dell'imposta comunale TOSAP tassa per l'occupazione del suolo pubblico così come più volte richiesto dagli stessi commercianti il prossimo lunedì 13 luglio quindi il mercato settimanale di Sassano si svolgerà nella nuova area il sindaco Tommaso Pellegrino e l'intera amministrazione comunale che all'unanimità hanno fatto tale scelta nella prima riunione di maggioranza della nuova amministrazione oltre ad esprimere grande soddisfazione rivolgono anche un sentito ringraziamento ai commercianti per la disponibilità e la collaborazione dimostrata e andiamo avanti ci spostiamo a Montesano è stato pubblicato ed è visionabile sul sito internet del comune di Montesano sulla Marcellana il bando di gara per la realizzazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture nell'area PIP di località Cadossana nella frazione Scalo l'annuncio arriva dall'assessore alle attività produttive del comune di Montesano Giuseppe Rinaldi Proseguono lacrimente le azioni per la realizzazione dell'area PIP a Montesano sulla Marcellana con la pubblicazione da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Fiore Volentini del bando per la realizzazione dei lavori nell'area individuata in località Cadossano a Montesano Scalo l'annuncio arriva dall'assessore alle attività produttive Giuseppe Rinaldi che comunica anche la pubblicazione del bando per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di infrastrutture nell'area di piano per l'insediamento produttivo oltre 2 milioni e 300 mila euro l'importo stanziato per i lavori che dovranno interessare tre specifiche categorie strade edifici civili e industriali e infine lavori per la realizzazione di acquedotti e fognature con i lavori che dovranno essere effettuati entro 120 giorni il bando è pubblicato sul sito internet del comune di Montesano dove sarà possibile reperire tutte le informazioni per la partecipazione sulla home page la scadenza è fissata per il prossimo 21 agosto dopo l'individuazione dell'area da destinare a zona PIP a breve si partirà quindi con la fase operativa e di realizzazione che presto sarà seguita anche dalla pubblicazione di un ulteriore bando per l'assegnazione dei lotti andiamo avanti con le procedure previste spiega l'assessore alle attività produttive Giuseppe Rinaldi per avviare quanto prima i lavori di realizzazione della nostra area PIP certi che questa infrastruttura possa rappresentare un rilancio per il settore delle piccole e medie imprese artigianali del territorio a breve annuncia verrà pubblicato anche il bando di assegnazione dei lotti dell'area stessa conseguenziale al regolamento precipuo approvato poche settimane or sono in consiglio comunale a partire dal 1 gennaio 2016 entrano in funzione i nuovi coefficienti per il calcolo della pensione annunciati tagli intorno al 2% i pensionati dal 1995 hanno visto ridurre la pensione del 12% e in tempi di crisi tutto fa brodo come pubblicato sulla gazzetta ufficiale dello scorso 6 luglio a partire dal 1 gennaio 2016 i coefficienti di trasformazione da adottare per determinare gli importi delle pensioni con il sistema di calcolo contributivo saranno aggiornati i coefficienti vengono aggiornati automaticamente ogni 3 anni questa cadenza però si ridurrà a 2 anni a partire dalla 2019 per via della riforma Fornero che ha previsto il ricalcolo a periodi più corti la revisione dei coefficienti e quindi il ricalcolo dell'ammontare delle pensioni è dovuto in base al cambio delle aspettative di vita aumentando la vita media dei pensionati si deve abbassare il loro segno delle pensioni per evitare che questo gravi in maniera eccessiva sulle casse dello Stato la decurtazione delle pensioni riguarderà tutti i pensionati indissindamente la cosa che varierà è l'entità del taglio perché inciderà maggiormente sulle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo infatti quelli che possono essere definiti più fortunati sono quelli la cui pensione è calcolata con il doppio sistema o sistema misto contributivo e retributivo le percentuali varieranno dall'1,5 a poco più del 2,5% in base alla data di decorrenza della pensione quindi la prima pensione che l'Inps pagherà nel 2016 vedrà i pensionati prendere mediamente il 2% in meno sta di fatto che fin dalla riforma Dini l'importo delle pensioni si va via via ribassando le statistiche dicono che dalla sua riforma del 95 le pensioni si sono ridotte del 12% aggiungendo il fatto che l'età pensionabile si è alzata un pensionato oggi per avere la stessa pensione che prendeva un suo pari nel 95 dovrà lavorare 4 anni in più e andare in pensione 4 anni più tardi ieri ultimo giorno di vacanza del sorriso per gli ospiti del Vallo di Diano che sono giunti in vacanza sul territorio grazie all'iniziativa organizzata dall'associazione Cilento Verde Blu nell'ultimo giorno di tour prima della partenza di questa mattina le famiglie sono state accolte per il pranzo dalla pasticceria panetteria Peccati di Gola e dintorni di Conotropiano che oltre al momento gastronomico hanno fatto trovare anche gonfiabili per i bambini dove hanno potuto giocare durante la pausa nella serata poi ritrovo presso il ristorante La Romantica di Teggiano per la cena di saluto nel corso del quale è stato anche possibile tracciare insieme un bilancio di questa settimana trascorsa nel Vallo di Diano grande la soddisfazione per l'iniziativa da parte sia dei genitori che degli stessi bambini che hanno apprezzato in particolare l'ospitalità ma anche la bellezza dei luoghi culturali visitati l'iniziativa ha inoltre riscosso successo anche per la possibilità di socializzare e confrontarsi sui temi di comune interesse ma ascoltiamo alcuni genitori e i bambini che hanno partecipato a questa edizione 2015 della vacanza del sorriso nel Vallo di Diano abbiamo avuto un'accoglienza a dir poco speciale meravigliosa non sapendo niente di noi ci avete accolti tutti a braccia aperte con tanti sorrisi la settimana è stata bellissima un po' impegnativa però ne è valsa la pena mi è piaciuta tanto la Certosa di San Lorenzo e anche le grotte di Pertosa però fare una classifica è impossibile perché è tutto molto bello ci siamo ritrovati qui c'è il Veneto c'è la Campania c'è la Sicilia c'è tutta l'Italia rappresentata però si è creato un bellissimo gruppo e ci si dà una mano anche tra genitori qui penso sia l'unica in Italia questa da quello che sappiamo ed è veramente una cosa fantastica organizzata perfettamente certo che organizzare circa 20 famiglie tempi e modalità sono un po' difficili però direi che è organizzata alla perfezione i bambini si sono divertiti tantissimo hanno conosciuto nuovi amici e ogni giorno per loro era una sorpresa qualcosa di nuovo da scoprire da vedere e sì direi che ci sono proprio divertiti è stato bellissimo perché comunque ho conosciuto ho conosciuto nuovi ragazzini che più o meno hanno avuto la stessa malattia che ha mia sorella in questo caso questa vacanza mi è piaciuta molto perché abbiamo visto anche i paesini qua intorno sono molto accoglienti e mi è piaciuta molto la cosa che mi è piaciuta di più è stata l'equitazione perché comunque non l'avevo mai provata e la volevo provare e mi sono divertita molto tu da dove vieni? io vengo da Foligno Perugia a di là dell'equitazione c'è un posto in particolare che hai visitato che ti è rimasto impresso e dove vorresti tornare? le grotte sì le grotte sì smeltissime cioè era un po' freschino dentro però con questo caldo fuori andava bene io a questi bambini li vogliono molto bene perché sono fantastici abbiamo fatto amicizia anche minuti con qualche ragazzo e in altri anche con giorni perché erano un po' più delle lingue i dialetti era un po' difficile capirti tra noi però sono fantastici e gli voglio un mondo di bene allora intanto è un'iniziativa apprezzabile dal punto di vista umano perché permette a questi bambini dopo tanta sofferenza di poter avere un momento di relax e di serenità dopo aver vissuto grandi sofferenze devo dire che quello che hanno manifestato tutti i cittadini della valle di Diano e devo dire in tutti i paesi nei quali siamo stati è stata veramente una grande generosità disponibilità apertura verso gli altri e sensibilità verso coloro che hanno sofferto allora lo consiglierei sicuramente soprattutto per i bambini anche perché la vacanza è principalmente dei bambini e i bambini si sono divertiti veramente tanto lo consiglio a tutti anche perché ci sono pure oltre alle famiglie benestanti insomma ci possono essere pure delle situazioni anche di indigenza e quindi questo aiuto permette anche a loro stessi di vivere un momento di spensieratezza non spendendo dei soldi in un momento di crisi e quindi sicuramente è apprezzabile da tutti a 360 gradi cioè da tutti i punti di vista e nell'ultimo giorno di permanenza presso nel Vallo di Diano per gli ospiti della vacanza del Sorriso abbiamo anche intervistato l'organizzatore nonché presidente dell'associazione Cilento Verde e Blu Giuseppe Damiani che parla già della prossima stagione estiva quindi della prossima vacanza del Sorriso 2016 annunciando magari una doppia tappa nel Vallo di Diano in modo da favorire la conoscenza del territorio e soprattutto le vacanze del Sorriso a più famiglie anziché 20 annuncia vorrebbe ospitare nel Vallo di Diano 40 famiglie vediamo tornerà nella stessa data praticamente nella prima settimana di luglio insomma già ci stiamo organizzando perché noi facciamo così un anno prima pensiamo per l'anno dopo e carichi di entusiasmo di questa bella riuscita di questa sessione e anche diciamo come dire più ricchi di partner che vanno a sostenere la vacanza del Sorriso beh loro sono generosissimi come tanti altri vadianesi alburnesi insomma ci sono tanti imprenditori tanti ristoranti tante strutture che già aderiscono in modo serio insomma coinvolgente con dandoci dei servizi e dei prodotti gratuitamente ovviamente ce ne servono ancora tanti altri ecco però stiamo maturando siamo al secondo anno al terzo anno penso che potremmo lanciare questa sessione al massimo nel senso che potremo ospitare anche il doppio delle famiglie perché tanti imprenditori tante strutture ricettive tanti volontari sapranno anche attraverso queste interviste quello che stiamo facendo e anche la concretezza e l'utilità di questo tipo di servizio che stiamo facendo più partner ci sono più sostenitori ci sono e più noi possiamo ospitare queste famiglie questi bambini dando un servizio civile pubblico agli ospedali pediatrici onquemotologici nazionali quindi il Valdedianto diventa proprio come così il Cilento e gli Alburni diventano un braccio prolungato di queste strutture in questo settore siamo un po' in frontiera però è un settore che forse ci riusciamo bene a farlo perché c'è quella generosità e quel calore che noi abbiamo come comunità tutta assieme Cilento Valdenese Alburnese e riusciamo a esprimere questo progetto però ci servono tanti altri sostenitori magari ecco questo ci tengo a precisare noi non vogliamo non raccogliamo del denaro tranne in momenti diciamo particolari vogliamo dei prodotti e dei servizi che possiamo omologare che si potranno omologare a costituire questi pacchetti turistici una volta costituiti questi pacchetti con il bed and breakfast con il pranzo come nel loro casa i giocattoli per i bambini i gelati il servizio da sferimento ecco con questi servizi che messiamo nella rete basta solo omologarla e renderla diciamo elastica e dinamica come così è il nome della dinamica della sessione e riusciamo a produrre questa accoglienza per 20 famiglie e anzi per il doppio come prevediamo per l'anno prossimo e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie bentornati alla seconda parte del nostro TG è morto ieri a Il Cairo in Egitto il grande attore cinematografico egiziano Omar Sharif al diffondersi della notizia alla comunità padulese è stata particolarmente colpita soprattutto coloro che hanno avuto la possibilità di conoscere l'attore durante la sua permanenza nella città in occasione delle riprese del film C'era una volta girate agli inizi del 1900 degli anni 60 con Location la certosa di San Lorenzo a Padula in cui Omar Sharif interpretava il principe che si innamora della popolana Isabella interpretata da Sofia Loren si è spento ieri nell'ospedale di Il Cairo il grande attore cinematografico Omar Sharif uno dei più apprezzati attori internazionali la cui fame e il successo lo hanno seguito per tutta la vita sin dalla consacrazione nel mondo del cinema con i film Il Dottor Zivago in cui interpretava il protagonista Yuri Zivago tratto dall'omonimo libro che ha entusiasmato e lo fa tuttora la platea dei lettori internazionale Il Vallo di Diano lo ricorda in modo particolare per la sua permanenza per tre lunghi mesi a Padula in occasione delle riprese di un grande film che lo vide protagonista con la straordinaria Sofia Loren due grandi attori del passato che tuttora sono considerati per la loro lunga carriera ricca di riconoscimenti e premi tra i più grandi attori di cinema del mondo Omar Sharif nel ruolo di Rodrigo Fernandez il principe di cui si innamorerà la popolana Isabella Candeloro interpretata da Sofia Loren fu coprotagonista quindi del film girato all'interno della certosa di San Lorenzo a Padula con l'interno del monumento che fu set delle scene ambientate nel palazzo del principe Omar Sharif e la corta esterna del luogo dove i due protagonisti si incontrano per la prima volta quei tre mesi sono tuttora nella memoria dei padulesi che ricordano con profondo affetto i due principali attori per la loro disponibilità ricordando le abitazioni in cui i due si sono trasferiti nel periodo delle riprese ricordiamo infatti i racconti di Don Tanino e dell'acquisto della casa in cui aveva soggiornato Sofia Loren affacciandosi al balcone per salutare i tanti fans padulesi che attendevano di vederla e la famosa vasca da bagno usata dall'attrice tuttora presente nella casa acquistata da Don Tanino quei giorni trascorsi con i due attori sono tornati immediatamente alla memoria dei valdianesi ed in particolare dei padulesi al momento in cui si è diffusa la notizia della morte di Omar Sharif che per tre mesi è stato ospite della città della Certosa un sentimento nostalgico provato soprattutto dalle tante persone che quel periodo lo hanno vissuto e che nell'apprendere la notizia hanno provato un senso di vuoto per un personaggio così importante tra i pochissimi ad aver vissuto il nostro Vallo di Diano dal 17 al 21 luglio Sassano sarà location del Sassano Beer Festival il festival internazionale della birra che si terrà presso la tenuta Romanelli la grande apprezzamento è stato mostrato dal responsabile Codacons Vallo di Diano Roberto De Luca in particolare per l'iniziativa delle navette la proposta per rendere questa manifestazione una valida occasione per l'educazione dei nostri giovani alla guida responsabile queste alcune delle parole del Codacons vediamo il Codacons Vallo di Diano plaude all'iniziativa promossa dagli organizzatori del Sassano Beer Fest che hanno previsto nei giorni della manifestazione dal 17 al 21 luglio prossimo l'attivazione del servizio di navetta su tutto il territorio del Vallo di Diano finalizzata al rispetto della sicurezza stradale si tratta fanno sapere dal Codacons di una buona occasione per promuovere il concetto di guida responsabile tra i giovani l'associazione nel tentativo di offrire un contributo alla buona riuscita dell'iniziativa ha suggerito un ulteriore specifico servizio straordinario di vigilanza con pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri munite di etilometri nei pressi del luogo in cui si tiene la manifestazione per il controllo in uscita dei conducenti dei veicoli per questo motivo scrive il Codacons Vallo di Diano sarà inviata una lettera al prefetto di Salerno recante la nostra approvazione all'iniziativa se essa verrà utilizzata come occasione per lanciare a tutti i giovani del Vallo di Diano una chiamata alla responsabilità nella guida e si conclude questa sera la tre giorni di musica presso il centro musica store di Padula Scaro una tre giorni che ha visto insieme giovani promesse artisti emergenti e grandi nomi della musica nazionale e internazionale in un mix straordinario arricchito dall'angolo gastronomico curato da McLogan Pub ieri grande serata di festa con la partecipazione e la musica del batterista Andrea Fontana uno dei più grandi batteristi italiani particolarmente apprezzato e richiesto da grandi artisti come Tiziano Ferro Cesare Cremonini Elisa e tanti altri questa sera poi il gran finale con altri grandi artisti della musica tra i quali Giovanni Block per chiudere poi con DJ Sat con la musica che proseguirà per tutta la notte ma ascoltiamo le interviste realizzate nella serata di ieri da Pietro Cusati al batterista Andrea Fontana la titolare di Centro Musica Store Laura Di Salvatore e a Gianfranco Cloraglio siamo alla seconda giornata della Free Music Day organizzata dal Centro Musica con UFIP Day in corso in quanto non è altro che praticamente l'azienda leader per quanto riguarda l'istrumento la strumentazione musicale e la UFIP Day appunto ci ha dato la possibilità di avere questa sera come potete vedere Andrea Fontana Andrea Fontana non è altro che il batterista appunto di Elisa Cesare Cremonini Tiziano Ferro e ancora altri artisti Patti Bravo e cioè si sta praticamente esibendo nella nella sua in tutta la sua performance musicale con anche delle ragazze che sono qui con noi questa sera quali Anna Lucia e Santina Delia non facciamo altro che cercare di coinvolgere tutti dai più piccoli ai più grandi diamo anche la possibilità dei docenti di musica nonché maestri importanti del territorio con i loro ragazzi quindi questa sera si esibiranno anche i ragazzi della scuola Miriamusa e non solo daremo anche apertura anche domani l'ultima serata con l'ultima esibizione di Giovanni Bloch nonché un altro noto artista locale e ancora l'esibizione di DJ set quindi ci saranno vari DJ che per terminare il tutto in bellezza verranno praticamente ad esibirsi e renderci lieti di un'ultima serata musicale all'insegna della buona musica e della tanta compagnia dunque questa sera faremo questa presentazione di insomma è l'Ufib Day il titolo della giornata diciamo ed è una cosa nata esclusivamente concentrata sull'utilizzo dei piatti Ufib che è una ditta di pistoia italiana ormai da tanti anni sul campo e sottolineo italiana perché di Made in Italy si parla ed è giusto andiamo sempre a guardare al di fuori di quello che è l'Italia in realtà abbiamo le cose buone in casa e quindi niente sarà semplicemente una presentazione di questi prodotti di questi piatti per batteria e non solo loro è da anni che fanno anche percussioni campane tubolari eccetera ma insomma sostanzialmente andiamo a suonare questi bellissimi strumenti soprattutto grazie al centro musica visto che siamo in casa al centro musica grazie a Carmine e a Laura allora ultimamente l'ultima cosa che ho fatto è con Patti Pravo e con Cesare Cremonini che riprendiamo a ottobre il tour e poi Elisa vabbè Tiziano Ferro i primi dischi insomma un sacco di Ivano Fossati quindi insomma mi sono dato da fare anche perché se no io ho sempre ascoltato e suonato di tutto ho iniziato a 15 anni con l'orchestra di Liscio e con i gruppi heavy metal perciò ho studiato conservatorio di musica classica quindi in realtà ho sempre suonato di tutto e di più ed è questo che mi piace proprio la musica rende questa libertà vero? allora questa sera è l'occasione sempre grazie a Carmine e Laura per presentare un mio singolo strumentale dall'album The Voice Within e praticamente poi si esibiranno tutti gli allievi della mia scuola di chitarra la Miriam Musa e in diversi generi musicali e abbiamo approfittato di questa seconda serata del Free Music Day e in rappresentazione anche con il batterista di Cesare Cremonini e Tizianoferro Fontana e quindi stasera ci saranno tanti generi musicali tanta buona musica tanti strumenti e cerchiamo di farci portatori di cultura di questa zona almeno a livello artistico musicale tutto pronto per l'edizione 2015 del Toco Film Festival che quest'anno si terrà due giorni nella En due giorni il 24 e 25 luglio a Sala Consilina si terrà il 24 e il 25 luglio prossimo l'edizione 2015 del Toco Film Festival nella location di Piazzetta Gracchi a Sala Consilina ospite illustre di questa edizione è il francese Daniel Toit premiato al Festival di Locarno per il suo cortometraggio Frère et Seur Toit insieme a Maria Angela Curci produttrice e critica cinematografica e Nicola Donofrio critico e collaboratore del Lucania Film Festival comporrà la giuria della manifestazione altri ospiti di rilievo saranno Franco Cappuccio Raffaele Ascoli Vincenzo Donofrio e Carlo Fumo 68 su 158 i cortometraggi che hanno passato la prima fase del concorso mentre è partita su kickstarter.com la campagna di crowdfunding per sostenere il progetto è possibile donare 2 euro ed essere ringraziati pubblicamente acquistare in anteprima t-shirt e locandine a prezzi scontati fino a proporsi come sponsor ufficiale il festival di quest'anno durerà due giorni e partirà dalle 16 e avrà più spazi dove simultaneamente sarà possibile interagire oltre allo spazio esterno verrà allestita una sala interna offerta dall'associazione Allegra Core dove saranno proiettati i corti chiudono il cerchio mostre di locandine cinematografiche interviste con gli ospiti e aria ristorio per maggiori informazioni e il programma del tagliato si può utilizzare il sito internet www.tocofilmfestival.it oppure visitare la pagina facebook del Tocofilmfestival e termina qui il nostro Tg io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.unotvweb.it grazie ancora per averci seguito auguro a tutti una buona domenica e un buon proseguimento di serata grazie a tutti